Buonasera a tutti e benvenuti al Teatro Polifunzionale Fischia per questa fantastica rappresentazione musicale e teatrale. Stare questa sera significa non solo assistere ad uno spettacolo teatrale ma assistere all'alto quinto di un percorso di crescita e vita dei protagonisti, gli alunni della quinta A dell'Istituto Comprensivo Foriotico e Donna Valdone. Il lavoro di questi ragazzi e dei loro insegnanti è il frutto di un percorso laboratoriale che ha un inizio già dalla classe seconda con la partecipazione al progetto nazionale delle Olimpiadi della Furtà per svilupparsi negli anni successivi con laboratori di recitazione e di cucina che hanno sviscerato nel profondo la cultura e le tradizioni della cucina esitana e ancora di più di quella napoletana e nazionale. Il progetto Le Emozioni Inversi, realizzato lo scorso anno e quest'anno, ha gentototto gli alunni nel mondo della poesia e delle emozioni che essa genera. Per cui, con tale bagaglio di conoscenza e di esperienza, il passo per calcare il palco è stato semplice e allo stesso modo conseguenziale, per consolidare in modo pregnante il lavoro di cinque anni di vita insieme. Il percorso effettuato quindi riassume tutte le tappe messe in essere dagli alunni, fornendo altresì agli insegnanti un valido contributo per trasmettere ai ragazzi i vari valori della vita, quali l'amicizia, la collaborazione, la cooperazione e l'integrazione. Fare teatro è stato anzitutto lavorare in gruppo, aprire canali per ascoltare se stessi e gli altri, concentrarsi insieme verso un obiettivo comune e stimolante, lo spettacolo. I ragazzi sono stati in ogni momento protagonisti, soggetti attivi e partecipi alla realizzazione di un progetto condiviso e ciò ha permesso loro di accrescere l'autonomia, mantenere alta la motivazione per mettere una maggiore conoscenza di sé, delle proprie capacità e dei propri uniti, potenziando l'autocontrollo e l'autostima per truffarsi in un mondo fantastico che prendeva forma attraverso non più la recitazione del singolo, ma dove il nome rappresentava il valore aggiunto all'oro impegno. A questo va aggiungerci in un sentito e commosso ringraziamento alla maestra Emilia Sorrentino che invito qui sul palco. La maestra che 30 anni fa, in un'epoca del tutto diversa da quella attuale, dove la scuola con difficoltà accettava la venta e minima di reazione dai piani didattici imposti e affidava ad un gruppo di studenti che vedo qui in sala e anche voi ragazzi, accomodatevi un attimo solo, dai, prendiamoci questo spazio per voi. Dicevo una maestra che affidava ad un gruppo di studenti, al suo primo gruppo di studenti, le sorti della propria reputazione di insegnante, una neodocente alla quale venne affidata una classe di alunni, scaldi delle altre classi che all'epoca venivano tenute quelle eletta, che è il coraggio ed anche la sfrontatezza di sfidare i canoni didattici precostituiti, di fatto affrontando la sorte. Trent'anni fa un gruppo di alunni che ancora dovevano compiere dieci anni furono portati su un palco a recitare De Filippo e Totò, quando anche la sua lingua napoletana non era contemplata nei piedi di studio. La maestra Emilia, che per noi fu una seconda madre, all'epoca era così e credo lo sia ancora oggi, che sopportava i nostri capricci, le nostre differenze, i nostri dubbi, mediando attraverso le paure e insicurezze che ci univano e ci dirigivano, ha espresso al meglio il significato di docente e noi ancora oggi, dopo trent'anni, non abbiamo mai, né lo faremo in futuro, osato chiamarle in altro modo se non maestra, nel senso più limpido che scrive questo termine. Lei credette in noi e fu un successo. Un successo che i molti tentarono di copiare senza mai uguagliarlo, ed oggi noi che siamo testimoni di quel tempo che fu, passiamo scelto a questi giovani alunni, che a breve si esibiranno su questo palco, con l'augurio che possano loro stessi tra qualche anno passarlo ad una futura generazione. A noi della quinta e anno 1989 non resta che ringraziare con lei che ha instillato nella nostra mente la convinzione che quando si può fare una cosa, l'importante è trovarci, perché solo chi non prova fallisce miseramente e questa convinzione non ci ha mai abbandonato. Maestra, oggi come allora, grazie per averci donato la tua conoscenza, che è la cosa più importante che ci ha detto. E questo è un omaggio da parte nostra. Insieme abbiamo una targa che riporta per il mio volore preferito e il giallo. Alla nostra dolcissima maestra Emilia Sorrentino, tanti dopo, la livella e non ti pago, proviamo ancora le stesse emozioni. Grazie di tutto. Io voglio dire solo una cosa. Il nostro è un mestiere che si deve fare con passione e vi assicuro che non servono. Certo, i soldi fanno piacere, perché oggi aiutano. Ma nessun assegno, nessun aumento di stipendio può regalare a qualsiasi altro mestiere quello che gli alunni regalano a noi maestri. Grazie a voi.